buonasera buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento di borsari strumenti musicali oggi vi presenteremo questa nuova tastiera del famoso marchio alesis armoni 54 si tratta di una tastiera con ben 54 tasti ma per presentarla al meglio passiamo la parola a simone il nostro esperto di borsari strumenti musicali grazie 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 scusatemi se mi sono permesso questo momento di piccola ilarità ma per presentare una tastiera indirizzata soprattutto ai bambini ho ritenuto opportuno fare un pochettino lo spiritoso innanzitutto sappiamo che questa tastiera è dotata di microfono ed è una tastiera veramente molto economica indirizzata per le scuole medie quindi abbiamo questo microfono di notazione il suo leggio e 54 tasti con la grandezza regolare la cosa che subito mi ha colpito è la durezza del tasto quindi a differenza delle altre tastiere del settore questa ritengo che sia quella col tasto migliore quindi col tasto più duro quindi lo ritengo addirittura adatto per un primo imbastimento di pianoforte per poi passare chiaramente la tastiera col tasto pesato andiamo un attimino nel concreto allora innanzitutto come vi ho detto abbiamo l'ingresso microfono l'uscita cuffia una buona amplificazione stereo il leggio e i tasti a sufficienza la tastiera è dotata di 300 ritmi di una qualità media e tutta una serie di regolazioni tipo posso regolare il volume del ritmo il volume dell'accordo la velocità trasportare la tastiera in varie tonalità ho questi tastini che sicuramente faranno divertire i nostri bambini e anche scegliere la modalità di single korg fingere il korg o nessun accordo nella modalità dell'accompagnamento che chiaramente fatto da ritmi di batteria di vari stili musicali allora andiamo nel concreto a vedere ad esempio il suono del piano come sentite il suono è assolutamente bello quindi chiaramente non abbiamo la dinamica ma pensate che una tastiera veramente di costo ridicolo andiamo a sentire un pochettino gli altri suoni e ad esempio 008 ci sono i mallet questo è bello marimba il suono è veramente campionato bene poi abbiamo non so dei violini 040 poi ci sono gli ensemble i brass e quindi vediamo un po' sassofono eccetera abbiamo veramente tantissimi suoni e con cui diciamo i vostri ragazzi si potranno divertire quindi la ritengo una tastiera assolutamente adatta per la scuola media è leggerissima trasportabile col tasto a grandezza naturale è una delle poche a quattro tave anche se c'ha tre note in più sicuramente è un prodotto che ve lo consiglio e soprattutto questo divertente microfono vi darà appunto questa possibilità di fare giocare i vostri bambini pertanto io vi ringrazio se condividerete il nostro video se vi iscriverete al nostro canale youtube e se mettete mi piace ai nostri video se parlate di noi in giro noi saremo assolutamente contenti perché ci impegniamo tanto a lavorare nel modo giusto e serio e vi invitiamo poi qui da borsare strumenti musicali il rotondatore a bologna per venire a provare con mano questo strumento e magari portarlo a casa credetemi il prezzo è davvero ridicolo allegria